Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio roccaforte, dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando l'oceano dei Gorgoglii, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che non potrà mancare nella stiva di ogni nave diretta verso la ruta maggiore. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del Crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia la Premium Car Collection Live Action Edition del TCG di One Piece in collaborazione con Netflix. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Il fascicolo si presenterà con i 5 protagonisti principali che domineranno la prima di copertina, assieme ai titoli delle rispettive opere, sia live che TCG, in basso al centro, con i loghi della casa produttrice e altre info di base sulla parte frontale, il tutto su uno sfondo che richiamerà un ambiente marino, ed il contenuto della collection, sia in breve che in chiaro, quest'ultimo raffigurato all'interno di un riquadro in stile rinascimentale, con lo stesso nome dell'articolo in alto e tutte le informazioni legali del caso, anche qui nel complessivo, su sfondo marino, descritte sul dorso. L'intera edizione, come di prassi, sarà avvolta in uno strato protettivo di cellophane che conserverà sia la struttura principale che le carte al suo interno da eventuali fattori esterni che potrebbero comprometterne l'integrità. Carte che potranno essere visionate sulla seconda e terza di copertina, dove saranno incluse all'interno di ulteriori bustine protettive incollate a loro volta sulla trama interna che raffigurerà uno stile mappato su sfondo marrone scuro. Sarà da ricordare che, nel caso di ogni collection fin ad ora pubblicata, la stampa è ispirata alla letteratura nipponica, da destra verso sinistra, quindi la prima di copertina sarà per noi occidentali, la quarta e viceversa. Ogni carta presente nella premium riporterà un protagonista della serie live action sulla sua parte frontale e, tra i più interessanti, ci saranno di certo Luffy Leader, Monoblue, con la sua controparte character a costo 4, Shanks, Nami ed Usopp, che al momento però non hanno visto ancora un largo utilizzo nel metagiocato. Ma conoscendo il TCG di One Piece dal suo arrivo in Italia, non si sa mai, meglio tenerle per eventuali costruzioni future di archetipi che arriveranno con i set in programma. La finitura di ogni carta, inoltre, risulterà essere eccellente, con rilievi a sbalzo e dettagli dorati degni di un vero pirata, con su ognuna di esse anche il titolo della serie Netflix nel riquadro dell'artwork ed il logo del TCG impresso in basso a sinistra, vicino all'esagono dei colori, che ne indicherà l'autenticità. In più, ogni elemento apparterrà alle promo che sono state rilasciate durante l'evento Seal Battle 2023 Vol. 1, dove sono apparse le versioni anime dei rispettivi personaggi, ad eccezione fatta per Garp, che, a differenza della Seal Battle, in questa collection non sarà presente. La Live Action Edition del TCG di One Piece sarà disponibile ad un prezzo indicativo di 40 euro e conterrà tutte le promo, ad eccezione fatta, come già accennato di Garp, dalla 47 alla 56 in versione alternativa, raffigurando alcuni dei personaggi principali della serie televisiva. Per i collezionisti questo fascicolo andrà ad arricchire la loro già ricca stiva, mentre per i giocatori si avrà la possibilità di recuperare carte promo da integrare all'interno del proprio deck, in modo semplice ed immediato. Inoltre, tenete sempre a mente che più si andrà avanti con le edizioni, più archetipi straordinari verranno alla luce, e chissà, magari proprio uno di questi utilizzerà come punto di forza le carte contenute nella Premium. Prima di concludere, volevo ringraziare Fantasia Store per aver fornito l'articolo mostrato in questo contenuto. Come sempre, vi lascerò ogni link utile in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio, verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno, per me e per voi, i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!